Armando, intanto raccontaci le tue emozioni, sei tornato a Monza, sei contento? Sono molto contento, sono molto felice, qui mi sono trovato benissimo e non vedevo l'ora di firmare. Cosa ti ha spinto in particolare a tornare, il rapporto con Gagliani, con la piazza? Il rapporto con il dottor Gagliani che è una persona incredibile, poi i miei compagni e tutto l'amore per i tifosi che mi hanno dimostrato in tutto questo anno. Non potevo non tornare qui, quindi sono troppo felice e non vedo l'ora di iniziare il campionato. Quanto è stato importante sentire la fiducia della società? Nel momento in cui c'era la trattativa e non eri sicuro di tornare, invece c'è sempre stata tanta fiducia in te da parte della società? Con il dottor Gagliani ho sempre parlato, era fiducioso, voleva che io ritornavo a Monza e alla fine ci siamo riusciti. Quindi sono molto molto felice e non vedo l'ora, ripeto, di iniziare. Sappiamo che il dottor Gagliani stimola sempre i giocatori, indica degli obiettivi. Di che cosa avete parlato? Quale sarà l'obiettivo del Monza in questa stagione? Sicuramente fare un grande campionato, ripetere il campionato che abbiamo fatto. Sappiamo che è difficilissimo ma ci dobbiamo ricompattare insieme ai miei compagni. E ho paura di nessuno, quindi andiamo a fare un grande campionato. E' un rapporto, Armando, che non poteva che non continuare, visto come ti sei trovato, l'accoglienza dei tifosi, la società. Una grande soddisfazione da parte tua, no? Sì, ripeto, è bellissimo. Ho trovato qua veramente tutto magico. Quindi sono molto felice, sia perché ho il rapporto con Gagliani, sia con i tifosi, sia con i miei compagni. Quindi sono molto molto felice. Ti aspettavi di fare una stagione così? Tu sei uno molto convinto dei tuoi mezzi, ma una grande conferma ha dimostrato di poterci stare a grandi livelli. Quindi un pensiero nazionale credo che tu lo voglia anche fare, no? Sì, tutti vorrebbero tornare nazionale. Quindi io sono arrivato a Monza con fame, voglio ripetermi, voglio fare un grande campionato. Voglio dire grazie ai miei compagni perché oltre ad essere giocatori forti sono grandi uomini. Ci dobbiamo ripetere e su ogni campo dobbiamo dare battaglia. Scusa Armando, due battute. Una sul calendario. La prima giornata è vero che non ci sarai, però giocate contro l'Inter. Quali stimoli anche da questa partenza abbastanza forte? L'Inter è una squadra fortissima. Ce l'andiamo a giocare, ripeto, senza paura e senza timore. Quindi siamo anche in una squadra forte che fa un buon calcio. Quindi la prepariamo al meglio. Poi il mister è fortissimo su queste partite. Quindi paura di nessuno. Poi l'ultima battuta anche su Berlusconi. Siamo quasi a un mese della sua scomparsa. Un tuo ricordo verso una persona che immagino abbia segnato anche parte della tua carriera, visto che comunque ti ha voluto anche lui a Monza. Il presidente Berlusconi ci manca e ci mancherà a tutti. Era un grande uomo. È il presidente che ha vinto più la storia di calcio. Quindi ci mancherà. Dobbiamo fare un grande campionato per lui, per il suo amore che aveva per noi, che ce lo dimostrava, e per il calcio. Quindi speriamo di fare una grande stagione per la sua memoria. Mandiamo un messaggio ai tuoi tifosi, Armando, visto che oggi si può dire che sei di nuovo un giocatore del mondo. Dobbiamo dare battaglia a tutti. Dobbiamo ripeterci. Grazie mille.